Dolomite & Bulk è un marchio della famiglia De Crestina e propone con rinnovato spirito l'arte antica del legno. L'estro creativo affiancato alle nuove tecnologie sono la linfa del nostro essere. La progettazione, la lavorazione e la posa sono eseguite direttamente da noi. Offriamo un prodotto personalizzato, competitivo e di buona qualità, sintesi del fare artigiano. Grazie a tutti.